Le stelle di Azus Le stelle di Azus Le stelle di Azus Le stelle di Azus La luna favorisce colpe di fulmine Anche se voi cercherete di non impegnarvi fino in fondo Pesci, le questioni materiali hanno la precedenza assoluta Visto che Mercurio sembra deciso a farvi un bel regalo prima di defilarsi In amore siete in una fase critica E con l'oroscopo di oggi è tutto Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna E vi invitano su Facebook Alla pagina Oroscopo di Azus